Non si ferma neanche a ottobre l'inventiva di Piero Pacini, titolare dei gelati di Piero, che è pronto a presentare la sua nuova meteora, il gusto di gelato che sarà in vendita solo fino alla fine del mese. Ancora una volta ha dato fondo a inventiva e maestria artigiana per alliatare ai palati dei lucchesi e dei turisti, dedicando il gusto a Matteo Civitali, scultore lucchese di fine 400, un personaggio tutto da riscoprire per la città. Essendo il mese di ottobre il mese del suo trapasso, essendo il mese di ottobre il mese dei frutti di bosco, mi è venuto in mente di creare un gusto nero-azzurro. I frutti di bosco con more e soprattutto mirtilli della Betone, con questa panna e questa glassa di cioccolata che abbiamo fatto apposta per questo nuovo gusto, è venuto fuori, modestamente parlando, l'ennesimo grande gusto e sicuramente l'ennesimo grande successo. Tanto è vero che i clienti ormai sono abituati, ogni fine del mese mi chiedono con molta curiosità cos'è il nuovo gusto che andiamo a proporre. E questa volta lo dedichiamo praticamente al grande, grandissimo Matteo Civitali. E non è finita qui, dall'1 novembre è pronta la grande sorpresa targata comics, ancora top secret, ma che renderà il negozio per 5 giorni in meta soprattutto dei più piccoli. Dopo questa ci sarà la super meteora dedicata alla grande manifestazione dei comics, che andremo a chiudere la stagione 2023 sicuramente con un altro grandissimo successo. Questa sarà una grandissima sorpresa.